Un messaggio eloquente per tutti i tempi, non relegato in un'epoca ma proiettato dinamicamente verso il futuro. La missione di Fatima continua il suo cammino e a cento anni dalle apparizioni della Vergine Maria alla Cova d'Airia, Papa Francesco ha deciso di essere nella cittadina portoghese il 12 e il 13 maggio. Un pellegrinaggio lungamente atteso nel santuario mariano e che vedrà anche la canonizzazione dei fratellini Giacinta e Francesco Marto che insieme con suor Lucia dos Santos, morta nel 2005, incontrarono la signora vestita di bianco. Di questo appuntamento del pontefice, nel solco delle visite compiute da Paolo VI, da Giovanni Paolo II anche per la beatificazione dei pastorelli e Benedetto XVI, abbiamo parlato con il segretario di stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolina. La Madonna appunto ha dato ai pastorelli di Fatima un messaggio controcorrente. Eravamo in tempo di guerra, 1917, quindi il discorso era quello dell'odio, era quello della vendetta, era quello dell'ostilità, dello scontro, l'inutile strage di Benedetto XV. Ecco, la Madonna invece parla di amore, parla di perdono, parla di capacità di sacrificare se stessi e di fare di se stessi un dono agli altri. Quindi un coppovalgimento totale dei valori che in quel momento, o dei disvalori che in quel momento stavano prevalendo nella società. Ecco, mi pare che queste siano due indicazioni di grande attualità anche per il Portogallo e un po' per tutto il mondo. Proprio questa capacità, diciamo, di partire dagli ultimi, di valorizzare gli ultimi e questa capacità di vivere gli autentici valori che possono essere alla base anche di una convivenza pacifica e solidale all'interno di ogni paese e fra i paesi. Pensando alla devozione mariana di Papa Francesco, più volte lui ha ricordato che ella ci aiuta a sciogliere i nodi del peccato. Quanto un luogo, un santuario come Fatima aiuta l'uomo contemporaneo a risolvere i grovigli del suo cuore? I santuari sono le cliniche dello spirito, no? Ecco, e sappiamo, il Papa l'ha messo in luce anche recentemente, trasferendo le competenze per i santuari in generale, ma per i santuari mariani, anche al Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione. Ecco, io credo che nei santuari risuona sempre l'annuncio dell'angelo a Maria che niente è impossibile a Dio, no? E un santuario diventa un luogo appunto di crescita spirituale nel momento in cui aiuta le persone a rispondere come Maria, eccomi. Ecco, di fronte appunto a questa realtà che nulla è impossibile a Dio, che non è impossibile a Dio fidarsi dell'uomo, che non è impossibile a Dio affidarsi all'uomo e camminare con l'uomo, che non è impossibile trasformare la vita e il mondo grazie al suo amore, alla sua tenerezza, alla sua misericordia. Sono trascorsi appunto cento anni dalle apparizioni della Vergine ai Pastorelli. Quanto ha da dire ancora Fatima al mondo e alla Chiesa? Mi vengono in mente le parole di Benedetto XVI nel 2010, quando disse, si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Il messaggio di Fatima è il messaggio centrale del cristianesimo, quello che stiamo vivendo soprattutto in questo periodo pasquale, cioè l'annuncio che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore della storia. Ecco, si è tanto speculato e forse si continua anche a speculare sui segreti di Fatima, ecco, ma sono in un certo senso speculazioni inutili, perché quello che Fatima voleva dirci ce l'ha detto chiaramente, pubblicamente, ed è proprio questo messaggio centrale, il messaggio centrale della fede, della nostra fede cristiana, della nostra fede cattolica. E quindi da qui nasce anche una diversa visione della vita, la vita che diventa un pellegrinaggio verso il Signore Gesù, ecco, diventa un pellegrinaggio sostenuti dalla forza del Vangelo e rinnovati continuamente dalla forza del Vangelo. Allora la missione profetica di Fatima è quella di richiamare alla Chiesa, ecco, quello che essa è, quello che essa deve continuare ad essere e ad annunciare nel mondo di oggi, e cioè una comunità che proclama i cieli nuovi e la terra nuova e che li attende e quasi li anticipa, direbbe il Concilio, proprio immergendosi nelle pieghe della storia, soprattutto le pieghe più oscure e più dolorose, con la forza dell'amore, ecco, per cambiare questa storia. Una grande gioia, è stato annunciato che proprio durante il viaggio Papa Bergoglio canonizzerà Francesco e Giacinta il 13 maggio. Quanto sono ancora attuali queste figure? Dobbiamo distinguere un po' tra quelli che sono, diciamo, i mezzi e i fini, nel senso che evidentemente Francesco e Giacinta appartengono a un certo tempo, ecco, una certa epoca della storia, con il suo modo di esprimersi con il suo linguaggio, con gli strumenti che allora si utilizzavano, ma, dice, il fine è proprio questa capacità di questi due bambini, nella loro semplicità, di andare al cuore del Vangelo. Ed è questo il messaggio che questi due bambini ci portano, ecco, capacità di andare al cuore del Vangelo attraverso il cuore immacolato di Maria.